Ma perché dobbiamo impegnarci tanto a fare la raccolta differenziata? Beh, ci sono almeno quattro buoni motivi. Prima di tutto perché risparmiamo materie prime, la silice, da cui si ricava il vetro. Secondo, perché risparmiamo energia. Infatti ci vuole molta meno energia per produrre vetro da rottame di vetro piuttosto che produrre vetro da materiale vergine. Il terzo motivo è perché riduciamo la quantità di rifiuto smaltita aumentando la quantità di rifiuto recuperato. E infine perché fa bene alle tasche dei cittadini. Considerato che le raccolte sono attive e ben organizzate in tutto il territorio, tanto vale farle lavorare al massimo del rendimento. Si risparmiano così costi di smaltimento e si ricava qualcosa dall'accessione del vetro. Grazie. 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 Grazie.